Comunque il peggior incidente che hai avuto sicuramente è quello del 2011 Infatti se ti va ne possiamo parlare perché non ci sono video Non ci sono video no, io non ho trovato video su quell'incidente lì Video c'è Ho trovato video di quello che arriva dietro e si vede la macchina C'è il mio camera car Ma dov'è? Io non sono riuscito a trovare quel video No ma non c'è, esiste ma non c'è E com'è andato l'incidente? Hai sbagliato qualcosa a te? Sì, quando picchi di solito non è che sbagli per colpa degli altri Giustamente Poi se la ride però è la verità E com'è andato sinceramente mi ricordo poco Perché io sono rimasto in coma tanto tempo Sono arrivato in ospedale con un litro e mezzo di sangue Non so, il corpo umano ne ha 6-7 Alla fine ce la ridiamo finché se ne parla Però era un periodo difficile E là tornando al discorso dei familiari Per chi era fuori dalle sale operatorie Io ho fatto dei interventi al di là di quei primi che sono arrivato Veramente secondo me me l'hanno preso per capelli E tutta la parte destra ero spapolata Cioè io ho avuto 42 fratture Forse questo numero non lo sa, non l'ho mai detto ufficialmente Però io ero dal dito del piede a praticamente il gomito tutto spapolato Poi veramente era una situazione grave Ho avuto dei interventi, i primi interventi duravano 12 ore, 10 ore Figurati io, mi danno una bella dormita Mi svegliavo dopo 12-13 ore Sì, tutto un po' così Però immaginati chi sta fuori sala operatoria per quel tempo E che è stato un momento della mia vita Perché poi alla fine noi parliamo di me come sportivo, come pilota Però alla fine io sono umano Che mi ha fatto da un lato aprire gli occhi fino a un certo punto Perché poi alla fine mi metto in macchina, guido Quindi uno dice, tornando al tuo discorso di prima, hai paura? No, anzi E la mia vita corre Però ho vissuto, non so, due anni, un anno e mezzo Che veramente erano tosti Però è stato brutto Poche persone forse lo capiranno È stato un periodo difficile Ma sì, però Ti fa anche pensare Io non sono uno che legge Anzi, quando andavo a scuola che dovevo leggere Compravo, sai, quelli libri Bidiami Sì, ti riassumo Arrivavo a decima pagina Annoiavo Anche il riassunto Il riassunto forse dovevo leggerlo Però era veramente scarso su quello Però, posto incidente Io mi sento una persona diversa Dal livello umano Di emozioni, di tutto il resto Non dico che sono Una persona brava o meno brava, più brava Però diverso, mi sento diverso E ho letto un po' di articoli C'è un libro Non ho letto tutto Che spiega sta cosa Perché io Prima ero destro Quindi attivi Una parte di cervello E quindi Adesso sei mancino Per forza Gran parte Delle cose Sono mancino La mano destra Non riesce Sì, vabbè Io faccio Però Allora Io post incidente Io riesco a guidare Infatti Ma io Però hai degli accorgimenti per te Oppure no Io ho sviluppato Dei compensi Nel tempo Chiaramente Gradualmente E mio Cervello Io Ho imparato di vivere Come sono adesso Se tu mi chiedi Adesso Di comparare O di fare un paragone Al passato Io non mi ricordo E meno male È stato uno dei miei Ha fatto lo switch La chiave Del recupero Al di là fisico Che è stato iniziale Ma poi c'è stata Una bella botta psicologica Comunque Di Dover accettarti E io mi svegliavo di notte Cioè Io Mio cervello Non accettava Rifiutava Miei limiti Ma è la verità Cioè Io mi svegliavo di notte Con Delle robe assurde Nella testa E Perché Ti senti Una cosa Estranea Cioè Al di là Del limite Comunque Io ho perso Tutta sensibilità Io Per sei mesi Sette mesi Non muovevo niente Cioè Io ho troncato Tutti i nervi È stato lunghissimo Cioè Io mi ricordo Per due mesi Faccio Cercavo di muovere Dito Dito non si muoveva Una sensazione Solo chi ha vissuta Può capirla Cioè Tu pensa adesso Che tu cerchi di muovere E non si muove Il giorno Io mi ricordo Il giorno Che ho accennato Un movimento Per me Era Come se E ti fa capire Che comunque Riassunto è quello Che Sono primo A alzare la mano Tu vivi E sei incazzato Perché c'è il raffreddore E sei incazzato Perché Ma alla fine Siamo tutti fortunati Io ho vissuto In realtà In ospedale Che nonostante Erano Condizioni Pessime Gravissime Ma c'era gente Cioè Io comunque Ho avuto fortuna E tanta gente Non ha avuto E quindi Non voglio adesso Sembrare quello è Però la verità È quella La verità È che c'è C'è tanta gente Che non ha avuto Questa fortuna Vero Vero No Sono d'accordissimo Una cosa che mi Mi incuriosiva Quell'incidente lì Nel 2011 L'hai fatto Ovviamente correndo Nei rally Però Mi dirai perché No nel senso Eri comunque In quel momento Correvi in Formula 1 No Ma Cioè La scuderia Ti permetteva Di Cioè se non c'era Grappermini Allora La verità è BMW No Infatti Cioè dipende dalla scuderia Il BMW No Cioè non puoi fare altro No La verità è che Io Volevo fare rally Per trovare qualcosa Che Mi migliorasse Me stesso Per trovare qualcosa Che Io sentivo Che se riesco Fare rally Posso avere vantaggio Sugli altri Attenzione 99% Dei condizioni No Però Se comincia a piovere Io sono con le slick Sensibilità che ti dà Mondorelli Devi acquisire Ora Ora tu Cominci a piovere Bandiera rossa Monte Carlo Rally Monte Carlo Tu Entri in prova Con le slick Cominci a nevicare Sono cazzi tua Devi portarla A fine prova Non c'è nessuno Che ti dà Bandiera rossa Fermi tutti E io sentivo Questa necessità Quasi Di trovare qualcosa Perché io volevo Essere migliore Poi C'è chi Dice che Me la cavavo Bene Io dico Sì Benissimo Penso di essere Stato nei miei anni Diciamo Doro 2008 2010 Uno che Poteva dire La sua Avevo Punti forti Secondo me Però Ero sempre A ricerca Di migliorarmi La perfezione Uno poi cerca Sempre Uno cerca Sempre di trovare Qualcosa Che gli altri Non ce l'hanno E' un essere umano E quindi Mi sono ritrovato A poter Corrire nel rally Ma la Lotus Lo sapeva Che La Renault Sì Certo Uno dei primi I primi punti Che ho Negotiato con Flavio Ah ok Era proprio questo Era che potevo Fare il rally Ok ok Però Che qua Arriva brutto La verità Poi sembra Sembra Scritta Non credevo che Flavio permettesse Perché l'ho sempre visto Come uno molto duro Origine Guarda Guarda Renault All'epoca Che Team Base Hanston Che poi ha cambiato Nomi Benetton Renault Lotus Alpine Adesso Sono Orientati Racing E attenzione Vengono Dai periodi Che avevano Dei campioni Ultimo Prima che arrivavo Io Era ovviamente Fernando Alonso Io non mi ritengo Campione Però lui Ha vinto Due Campionati Del mondo E Spesso Quando tu Sei campione Puoi fare Quasi tutto Cioè Io mi ricordo Tempi BMW Se non mettevo La maglia Se per caso Entravo Andavo a correre È successo Sono andato a correre A Monza Senza la maglietta BMW No attenzione No Vado a correre Alle 8 di sera Buio Arrivavo da Turchia Mi ricordo Da Istanbul Prendo Prima maglietta Dalla borsa Me la metto Dovevo aspettare Un ingegnere Per 15 minuti Questo hai test Vado a correre Mi arriva Warning Cartellino giallo Perché Non avevo Maglietta Puma Poi Vedi Hamilton Ha detto Fa cazzo che vuoi Quindi Capisci Quindi Alla fine Sì Sapevo Cioè Flavio aveva bisogno Comunque Renault Aveva bisogno Di sostituire Fernando Che andava In Ferrari E non erano messi bene Anzi Erano messi Bastanza male Partivano Penultima fila Quando tu parti Per penultima fila Con Fernando Difficile trovare Uno forte Che vuole andare là Ah chiaro Però la verità È che mi lasciava andare Ma attenzione Il rally Che mi sono fatto male Doveva essere mio ultimo Perché Perché Anno dopo Io sapevo Che non potevo Più fare il rally Perché avevo già firmato Con un team Con la Ferrari Con la Ferrari Sì Ma poi Che è successo lì E dove Perché non sei poi andato Ero spabolato Cioè Dove vuoi che vada Un attimo di Però anche là Nei rally Di Andorra Io ero a Valencia Giorni precedenti Che era primo test Precampionato Che tra l'altro Qualcuno anche ultimamente Mi ha ricordato Dato che Ero più veloce Ma vabbè I test non contano niente E Io mi sveglio Mercoledì Era il secondo giorno Di test Mi sveglio mercoledì Ho sensazione strana E dico Io Devo tornare dai test Sarò stanco Qua vai a fare il rally Ma chi Chi me lo fa fare Chiamo Chi Mi portava Il team che mi portava La macchina L'ho sentito Totalmente tanto Entusiasmo Perché Praticamente Era Un Ripagarmi Perché io Avevo affittato La macchina Da loro Per rally Ma mi Mi fermavo sempre Cioè Tipo Tre gare di fila Mi sono fermato Per problemi Tecnici Della macchina Quindi Per loro Perché si sentivano in colpa Mi hanno offerto Sta gara qua Io lo chiamo Per dire Che Guarda Lasciamo stare Lui dice Ho chiamato già Pirelli Viene Porta un legome Proviamo Ho chiuso Prenottato la strada Per i test Sai Va bene Dai facciamo Capito Prenottato la strada